Sì, sono un po' di rinforzamento, 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 non riconosci neanche la gente, lo conosci bene, Valerio, è lui, sta nella casa. Sì, sono un po' di rinforzamento. Sì, sono un po' di rinforzamento, sono un po' di rinforzamento, sono un po' di rinforzamento, Sì, sono un po' di rinforzamento, sono un po' di rinforzamento, sono un po' di rinforzamento, di rinforzamento, sono un po' di rinforzamento, sono un po' di rinforzamento, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.